Bene, allora non vi starò a tediare su come funziona Spascial perché ci sono migliaia di video comunque non è molto difficile usare Spascial perché proprio una delle sue caratteristiche è quella di essere molto semplice da usarsi rispetto ad altri mondi virtuali però la cosa che ci interessa a noi adesso è vedere come si può scriptare in Spascial. Quindi farò vedere in maniera un pochino veloce anche qui perché in realtà c'è tutta la documentazione in inglese sul sito e in particolare quando voi dice che volete creare uno spazio tra le tante possibilità che abbiamo detto che sono facili ce ne sono però alcune che sono un po' più potenti che sono praticamente il Creator Toolkit quindi parleremo del Creator Toolkit Allora, come si fa per usare il Creator Toolkit? Ok, allora, il Creator Toolkit lo si trova si trova facilmente, basta cercare Creator Toolkit Spascial e si ottene sostanzialmente un link questo link è quello ufficiale di Spascial e in questo link è possibile praticamente costruire degli ambienti 3D Ora, come si fa? Bisogna andare sostanzialmente qui nella documentazione nel Get Started e nel Get Started dobbiamo chiederci che cosa vogliamo fare e quello che vogliamo fare in realtà è abbastanza interessante perché possiamo costruire dei mondi adesso poi tra l'altro il concetto di mondo in Spascial è leggermente diverso cioè una struttura non è proprio uguale a quella degli altri mondi virtuali ma possiamo fare anche dagli avatar possiamo fare dei veicoli che si muovono possiamo fare anche, questo è molto interessante quest building cioè costruire proprio degli incarichi delle cose da farsi e questo è estremamente interessante e io ovviamente sono interessato dalle parti diciamo didattiche diciamo come edu3d e possiamo, ed è questo in realtà quello che voglio far vedere più di tutti è fare Visual Scripting Interactivity e Visual Scripting parliamo di Visual Scripting perché Spascial supporta solo il Visual Scripting e non quindi il C Sharp ed è quindi per alcuni versi particolarmente interessante perché si avvicina il coding nei mondi virtuali e non conosce i linguaggi evoluti allora, come facciamo per lavorare con gli spazi? allora, prima di tutto andiamo in Spaces Spaces and Blades, questo qua e vediamo che ci... ok, non era di lame nella parte di scripting quella seconda parte che avevo detto quindi dovete andare sulla parte di Visual Scripting quindi docs.spascial.io come vedete qua sopra e qui vi dice più o meno quelle cose che vi stavo accennando prima il Visual Scripting è un modo speciale per lavorare non bisogna essere un programmatore e qui c'è tutta una spiegazione di come si fa a programmare però, seguite un po' questo video vi darò alcune piccole basi e in particolare qui andiamo sul Getting Started Getting Started c'è anche un video in inglese ma la cosa fondamentale è di installare sostanzialmente questo programma che si chiama Unity ora Unity è un programma abbastanza grosso grossino ma la cosa più importante prima ancora di installare Unity è di installare Unity Hub l'abbiamo già visto negli ultimi anni con Edu3D quindi abbiamo fatto dei corsi specifici su Unity abbiamo visto come usarlo per VRChat il concetto è molto simile solo che Spascial sta usando una versione abbastanza recente di Unity la 2021-3 e 21 almeno però in realtà basta che abbiamo la 2021-3-8 quindi diversamente da VRChat e tutti gli altri abbiamo uno Unity molto recente perché è molto recente? perché sono quelli che supportano il Visual Scripting allora, quindi prima di tutto dovete ricordarvi di installare Unity Hub e una volta installato Unity Hub che qui c'è un link quindi non c'è bisogno che vi faccia vedere tutto il giro perché ve l'ho già fatto vedere in molti altri molti altri video che ho fatto negli ultimi anni comunque si va in questo link si installa questo programmino e dopodiché da dentro Unity Hub si può chiedere di installare le versioni quindi per installare le versioni bisogna andare praticamente sulla versione storica delle versioni si clicca e si installa ecco l'unica vertenza è che dovete installare questo mezzo giga anzi questa roba che si chiama WebGL se non lo fate non potete sviluppare con Spatial ora, non basta questo dopo aver scaricato Unity Hub occorre anche aver scaricato il cosiddetto starter template che lo vedete sempre di qua lo starter template contiene in realtà diverse cose qui c'è questa isola dimostrativa ma ci sono anche le ultime cose fatte quindi delle cose anche molto complesse diciamo e la scena che principalmente lo suggerisce è questo environment Unity ma noi adesso faremo una cosa molto specifica per far vedere come si una volta installato il Unity cioè praticamente sono tre le cose che dovete installare cioè Unity Hub poi tramite Unity Hub installate la Unity 2021-321 e che faccia da ricordarsi perché c'è un 21 ripetuto ricordatevi WebGL e BuildSupport aspettate mezz'ora che vi installi il tutto si scarica questo starter template ricordatevi di fare l'unzip dell'archivio e poi quella cartella che viene scaricata dovete semplicemente aprirla da Unity Hub quindi partiamo da qua ecco qui quindi partiamo da qua andiamo in sintesi in vedete questo è il nostro Unity Hub 3.4.1 ora Unity Hub controlliamo gli install e vedete che è installato 2021-321 quindi quello che ho detto prima non è l'official release ma è un LTS quindi LTS vuol dire che probabilmente potete tenerla per un po' di tempo non dovete preoccuparvi di cambiarla ogni mese ma dovrebbe durare in teoria LTS durano almeno due anni però insomma prima o poi dovete cambiarla e accertatevi di avere supporto per la vostra architettura nel mio caso Windows e soprattutto per l'architettura WebGL poi andate nei progetti e accertatevi di avere effettivamente aperto quindi aver dichiarato un progetto che si chiama Special Unity Start la prima volta che aprite un progetto importato in questo modo ci impiegherà i suoi dieci minutini ma poi adesso facciamo io ce l'ho già aperto ma facciamo un facciamo da zero quindi usciamo da Unity e torniamo qui da capo quindi supponiamo di aver appunto appena aperto il progetto facciamo clic il progetto si apre come vedrete nel video le volte successive alla prima ci impiega non direi pochi secondi ma insomma fa un piccolo refresh diciamo che in un minuto circa anche meno forse dovrebbe tirare su tutto forse un paio di minuti mettiamo così adesso sono 20 secondi no però potrebbe farcela a stare nel minuto ok diciamo che è stato nel minuto ora io non ho cambiato il layout così è identico a quello che avete voi il default credo che sia scuro dark per tutti e quindi dovrebbe essere a posto ecco qui le cose da l'unica cosa da tenere presente almeno per questo video è sostanzialmente il fatto di controllare che ci sia in cima uno spasher SDK l'altra cosa che dovete verificare è ricordarvelo che in alto compariranno anche questi tasti che per il momento per questo video non premiamo che sono il test test active package nel prossimo video spieghiamo meglio cosa siano e poi il publishing e la config tutte queste cose la vediamo meglio tra poco cioè non in questo video quindi però in questo video controllate quindi una cosa la facciamo facciamo in account quindi account verificate di essere logged in non fidatevi troppo che vi dico che siete loggati ad esempio a me ho perso tutta una giornata perché mi diceva che ero loggato e non lo ero probabilmente ho cambiato vai a capire cosa quindi seguite le istruzioni di questo di questo log cioè praticamente cliccate qua dove c'è get login token get login token sostanzialmente vi apre il il vostro spasher e soprattutto se è già aperto è meglio se l'avete già aperto prima il vostro account in modo tale che siete già posizionati sul vostro account e a questo punto potete fare copy to clipboard quindi copiare la creator toolkit access token andate tornate sul sul vostro progetto e fate il paste e a questo punto avete you have successfully authenticated with spatial potete fare begin creating ok e a questo punto se prima non lo fosse stato si accende in verde questo ma comunque io suggerisco soprattutto le prime volte entrate anche se fosse verde magari qualcuno è entrato rifatte questo procedimento quindi avendo fatto questo giro quindi avendo installato mojil cioè mojil non c'è niente hubs che è questa ricorda qua unity hub avendo installato poi il starter template adesso non preoccupatevi sulla scena che si vi presenta la riprenderemo in mano nel prossimo video comunque la cosa fondamentale è che vi ricordiate di fare il login qua quando avete fatto il login voi siete pronti per poter costruire il vostro mondo oppure il vostro template e altre cose le vostre prefabure adesso vediamo il vostro avatar insomma tutte le cose che servono per creare contenuto in spascia quindi per questo video siamo abbiamo finito un po'